buongiorno a tutti e benvenuti alla four wheel drive italia cj7 golden eagle originale motore 304 mc v8 in fase abbastanza avanzata di restauro la carrozzeria più o meno come a parte alcuni dettagli insomma è a posto stiamo un po riassemblando tutta la vettura la facciamo un po a tempo perso quindi andiamo abbastanza lenti questa vettura è arrivata in condizioni pessime la stiamo un po riportando ai fasti di un tempo una cosa molto bella che ha questa vettura adesso dovremmo magari migliorare pulendoli se il nostro operatore riesce a farcelo vedere sono questi sedili sono sedili levis originali un po sporchini ma con una pulizia di detailing fatta come si deve torneranno meravigliosi quindi se hai una gip come questa e vuoi restaurarla o dal punto di vista conservativo perché non è detto che ci arrivino solo gip disintegrate oppure fare un restauro frame off quindi completo è una delle nostre specialità sono a tua disposizione anche solo per dei consigli per compreventivo per per quello che desideri il sistema migliore per contattarmi e via whatsapp il mio ricapito whatsapp è 338 73 12 725 alla prossima ciao Grazie a tutti.